Abbiamo un po' esagerato Degrado Avete esagerato? Ecco, i jeans sono da lavare Anche i miei pantaloni Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video Di questa buonissima challenge Con la Lisa e con la Ceci E oggi faremo la yogurt challenge Siamo qui con questo ammasso di yogurt Che bontà L'abbiamo comprati un sacchissimo Prenderemo tre yogurt, più o meno Li metteremo dentro una ciotolina Di due partecipanti E loro dovranno indovinare Appunto che gusto sono I partecipanti ovviamente Saranno Lisa e Luca E poi? No, e poi, poi Non c'è un poi Poi c'è anche la Cecilia e Lisa Poi c'è anche Luca e Lisa E poi Lisa e Luca No, poi c'è il terreno tutti E quindi direi che possiamo cominciare Comincio pure te Certo, che detto è prego Che buoncino Sono raffreddata quindi Buon non è? Eh, io sono bravo a cucinare ragazzi Lo sapete Cosa dite? Non è molto buono No E mi piace Luca, dai Io ce li ho già messo Il complimento alla Ceci No, due Secondo me è fragola Banana E limone Tu Lisa cosa dici? Secondo me è fragola, banana e vaniglia Allora Lisa l'ha indovinato uno Quindi la vaniglia E Luca ha indovinato zero Yeeeh Ma no Ma no Perché i gusti erano nocciola, vaniglia e frutti di bosco Ma no ma dai Ma è strassi nella fragola Luca hai bisogno della spina Si sicuro Ok ragazzi adesso toccherà a me mettere i gusti di yogurt Facceli belli Senti schifosi No Buoni No Punto stop No Si Adesso arrivo Chiudete gli occhi Chiudete gli occhi Si scusa Eh Chiuso Ok raga mi state bene Assaggiate subito Io non ho in mente uno Anch'io Ok Non male Allora Non male è buono Non aspetta Allora banana Si Senti dei pezzettini Cereali Il cocco Per me Ok Vediamo te Elisa Secondo me E' buono Elisa Si Buonissimo Allora Cocco Limone E Banana Ok Allora Io non mi ricordo più i miei gusti Cosa che avevo detto Hai detto Cereali Cereali Cocco Cocco E Cos'è che ho detto Aspetta Banana Fermo Fermo lì Hai detto banana Sì Cambio idea Ananas Allora I gusti erano Ananas Limone E cocco E mi mi va Due gusti E tu li sei quando indovinati Due Due pari Yeah Grandi Io ho fatto schifo L'ho fatto zero Mamma mia Tu hai fatto tombola Che a me Yeah Tocca a te a mangiarle tutti Sì Che c'è due Ah scusa Mamma mia Che mix Che mix Che mix Ok raga Il profumo fa schifo Vediamo se adesso Se adesso nell'assaggiare Il cagliomide Ma non credo proprio Secondo me Io mangio tutto questo Eee Dici Dai Faccio il bue Che schifo Buono Frutti di bosco Caffè E mirtillo Aspetta Frutti di bosco Caffè E cereali Ok La cessina Metti giusti Due Uno Bella questa Pensavo dicendo Zero Ma no Ma io Perché se deve essere così spiegato Cos'hai indovinato Allora Hai indovinato il caffè Solo il caffè Dovevi immaginato Che dovrebbe il caffè Il frutti di bosco non c'era Si senta un botto Allora Ho messo dentro Caffè Mirtillo E albicocca E albicocca Ma dai Non avrei mai pensato All'albicocca Sai Adesso però raga Ci sarà la mano finale Dove mettere botto Sì Tutti Tutti gli yogurt Qua dentro Vai iniziamo con questo Mettiamo anche questo Mettiamo anche questo Mettiamo anche questo Allora, mescoliamo Gira, gira No, no, aspetta, aspetta, prendo la coletta Che buono, non è male Sembra la crema kaiser Crema kaiser? La kaiser Io direi ragazzi di avvicinare bene il nostro barattolino La nostra pappetta Però, secondo me, ci sporchiamo troppo Per cui, vai in arrivo Non ci sta Sì che ci sta Ecco questa è perluca Ecco per il maschietto Lisa e c'è Ciuz Ecco Così non ci sporchiamo, no? Vai raga, pronti? Sì raga Non sporcatevi, eh Non sporcatevi, Cip Veramente è una bontà immensa Così buona Che non è vero Raga Mi fai vomitare Tutto sto mix qua Sta veramente schifo Ma provate ancora un cucchiaio Solo uno Non lo potete capire Dai vieni te qua Un caione Vai c'è cinque uno Mamma mia Perché tu ti disgusti qua insieme? Che cosa abbiamo fatto? Perché? Eccolo qua il nostro marcolino Ciao ragazzi Sì ecco qua Eh anch'io Bevo la tavaglia anch'io perché Sì lo vai Ma E' sei pronto per mangiare la pappa? Allora lo doveranno Non è il massimo Non è il massimo effettivamente Ma è yogurt Ti bocca io se vuoi, eh Va bene? Dai Dai bravo bambino, eh A rivelare un planino Ma un'altra Apriamo cuccia Guarda che non ti do il premio, eh Dai Bravi Bravo bambino Bravo Vuoi provare con quello più piccolo? Dai provare con quello più piccolo Piano, eh Sì sì, piano Non sprocare il vestito Però con la paletta Non è che deve arrivare fino qua Dietro alla nuca Va bene? Sai già parliare Bravo Stai già parliare Visto che è bravo Questo bambino Por calma Vai Che bravo bambino Fatti che ti pulisco bene qua Ma è più piccolo Dove è che è arrivata? È più piccolo questo È anche più piccolo Ancora? 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 Vado? GUARTA! COGIA FA... Ma questo bambino vuole ingrassare? Sei pazzo! Guarda bambino, guarda i tuoi baffi! Che bello, che bello! Dai che sto mangiando, non interrompermi! Mangia tutto, eh! AMMU! Buono! BASTA! Mmmmm! Che bello! Mmmmm! BASTA! Mmmmm! Rompà! Mmmmm! Buono! Ma perché ridete? Sei la soddisfazione della ceci! Vedi! Bravo! Chi non finisce adesso? Io! Mmmmm! Più forte di me! Aveva fatto un mix eccezionale! Anche tu Risa, seguiti esempio del Papi! Ok! Vai Risa! AMMU! Non ci crede! Che brava! Tra le padre! Tra le padre! Eh buona Pappona! Vai! Vai! Brava! Brava! Ancora! Ancora! Brava! Brava! Mangia Pappona! Vedi! Eh? Cosa c'è? Non cazze! Vuoi i biscottini? Va bene ragazzi! Questo video qua! No! Si conclude! Questo video qua si conclude qua! Mi raccomando che vi dici i nostri profili Instagram! Che troverete qua sotto la descrizione! Luca Stimweb, Cecilia Fashion Official, Marco Punta Zanotti e Zanotti underscore Lisa! E noi ragazzi ci vediamo con un altro yogurt! Aspetta aspetta Luca! Hai dimenticato di dire underscore yogurt! Non è vero! E noi ragazzi ci vediamo un altro video! Ehhh... Ciao dannي!!!